Questo sono io, e lui è Don Vincenzo. Cominciate a raccontare tutti i segreti del confessionale. Una specie di crisi spirituale. Crisi mista. E' un po' che è tutto. Io sono un soldato del Signore. Qui non sono venuta per parlare della storia del saluiere, dell'intracista, del fornaio. Mi sono fatta. Tutta la confertigianata. Me l'hai detto tu in confessione, ipocrita. La storia di questo prete chiacchierone... Ma ma... Vedete che quello è... Ma venuti! Abbiamo inseminato. E mo? E mo sono in ginta. Amen! Chi ha detto sti cazzi?